E' sparito. Sapete cosa c'è in gioco? Non c'è più molta strada. Spari prima che può. Cosa si può dire di un uomo così? Tre mesi fa avete perso il drive con l'identità di ogni agente infiltrato nelle organizzazioni terroristiche in tutto il mondo. 007 è il rapporto. Dove diavolo era finito? A godermi la morte. Ho solo una domanda. Perché non rimanere morto? Si vergogna ad ammettere che perde colpi? Non era M l'obiettivo. Volevano che lei lo vedesse. Benvenuto nel nuovo MI6. Sono l'addetto alle armi. Sta scherzando, spero. Walter P.P.K.S. 9 mm corto. Quadificata con la sua mano. Può usarla solo lei. Meno strumento per uccidere a caso. Più impronta personale. Q. 007. Voglio incontrare il suo capo. Fin dove conosce la paura? Fino in fondo. Ma non questa. Non come lui. Ma si guardi. Va a caccia di spie. L'Inghilterra. L'M6. L'ha mandata a cercarmi sapendo che non era pronto. Che forse sarebbe morto. Mammina è stata molto cattiva. Due sopravvissuti. Questo ha fatto di noi. Tutti hanno bisogno di un hobby. E qual è il suo? La resurrezione. L'Inghilterra. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.